DSG e Suonze in campo KB, KB, scusate, del calciotto che ha l'Andrea Doria ecco le squadre, l'arbitro che si rispone saluto per le squadre ecco gli schierati completo blu scuro per il PSG rosso e nero invece lo Suonze braccio di punizione per i Gallesi va alla battuta termina alta però di ventura ha trovato lui il gol del PSG il gol del PSG direttamente da punizione per il tipico angolo corto come si dice in gergo il PSG in vantaggio con Giordano vedete il destro forte a giro sul secondo palo niente da fare per Filati DSG in vantaggio sullo Suonze e bravo Filati qua in due tempi vediamo un po' non la blocca attenzione salta ancora e poi la blocca bravo sulla punizione parte Gallina palla deviata e poi ancora il destro da fuori è ancora una deviazione decisiva mezza rocciata di Gallina una palla non so dopo un fischio batte il PSG il destro da fuori e il gol e il gol il raddoppio del PSG assegnato a Zoni bravo Giordano a dare la palla ad Zoni vedete stop e tiro dalla lunetta e il PSG da sopra 2 a 0 rocchetti però la palla poi scaricata forse fallo su Diventura un po' così apriamo un bel calcione Diventura ora la punizione per lo Suonze batte Ronchetti ed è il gol di Ronchetti lo Suonze accorcia gran punizione di Daniele Ronchetti ha tirato di mezzo esterno destro la palla con l'effetto un po' a uscire e batte il portiere francese lo Suonze Caporuscio Diventura Gallina Caporuscio ancora Gallina Gallina prova il tiro viene ribattuto Ronchetti col sinistro la deviazione ed è bravo il portiere del PSG Pomarici a salvare ancora Diventura palla dentro non la tocca nessuno probabilmente dei gol di Diventura il pareggio e vedete in telecamera dice è tutto mio lo Suonze 2 a 2 Emidio Diventura vedete prende palla forse vuole trossare dentro per il taglio di Caporuscio che non la prende non la prende neanche il giocatore del PSG e la palla si addormente in rete ed eccolo qua Emidio che dice in camera è roba mia lo Suonze il pareggia così 2 a 2 col Paris Saint Germain e la palla di Caporuscio